Due esigenze. La prima, cambiare la Costituzione non è come cambiare il regolamento di un condominio, ma è rispondere ai grandi problemi dell'agenda del terzo millennio. La seconda, se ne parla da troppo tempo, bisogna dare ai cittadini tempi certi. Credo che la Commissione abbia iniziato bene perché tiene presenti entrambi questi imperativi.